RACEYOP FAST Ciao Vets, benvenuti nella continuazione del episodio precedente Eccolo lì Sempre zero e... Subito, subito, via! Takabanda Coppelo Non rifare Subito così Ma va a cagare! Vi ha anche un preavviso Adesso vabbè, per i farlo Oh oh What's up? Oh 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 no Death Sire Why the joke is game? Yeah, yeah Oh, he's caught 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 dai che prendo la vita, spero che prenda un po' di vita uoh guarda che figo questo si gli hai tolto moltissimo si, non è vero un po' di fai un po' di fai un po' di fai un po' di fai ok Oh, hai la madre Eh, lo so Ma aspetta, cosa fa? Attacchi proprio Tipo questo, magari E' la seconda cosa E' bellissimo, aspetta, vabbè Si ma non gli talgo unie inti di vita Suposo che sono fatti Attacco finale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no 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 oh che 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 ah che 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 ah ma guarda adesso che qui sono giganti che c***o ma già guarda adesso che figlio ah tranquillo che ho i bracci ingratiati ah tranquillo che ho i bracci ingratiati che 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 Grazie. l'ha ancora vinto non l'ha pesato del tutto prendi solo il chakra non ti serve il chakra della volpe però se tu usi se lui usa il chakra della volpe la volpe usa il suo chakra e se finisce il suo chakra muorelo cioè diciamo un rapporto se io consumo uno di chakra della volpe la volpe consuma uno di chakra di naruto e se naruto spende tutti i cento di chakra muore perchè è sempre il chakra molto bene eh 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 mi 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 Vabbè, ottimi rapporti con l'affoglio. Questo ti schifo, mi sceglierò un po' tutto. Non ho capito, ma non ho capito, e ho capito che ho capito. Il pressione, la solitudine, il riso. Il riso che si tratta, che si tratta. Ma che, nel momento in cui, mi ha detto che, il mio padre, il mio padre, che mi ha insegnato. Il mio padre, mi ha detto che ci sono i suoi. rimpiesi prima d'amore amore drogati tipo polo sembra talcomale sembra l'allegria se talcomale ma che brutto che ne ha riuscito a piccola ah hai già i baffi ahahah i baffi non qua ma sulle braccia vabbè e piange solo da uno si vede che ha problema e si pulisce dall'altro cioè gli sangue gli sangue la lacrima il destro e si pulisce il sinistro giustamente allora l'uomo masquerata di alba e tramonto mi esiste una squadra a tramonto ecco 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 sta per tornare alle elefasi eh 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 ecco 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 mi sbagliate ma sapeva sapeva cosa la risposta ecco un momento in cui si tirano segne di ricette quant первoll quando sono sim salto No, 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 no... ma quest'anno ne facciamo 17 eh no spoiler eh eh spoiler ma che bella faccia è cool mentale per quelli devi sentire tanto 2 2 20 e non basta eh eh neanche 3 questo è uno spazzolino piccolo io lo so inventa la volta ci mettiamo diverso un quarto tipo due ore io ad avanti tu perchè sei minato? questa è una storia vecchia ok ok ho capito incontrerai i ninja della porta della foglia square che ti accompagneranno ok eh minato mi stai trattando come una bambina non è la mia inizia ma quindi hanno scopato per avere la ruota ma va l'istinto è interprotettivo per me si fanno inseminare artificialmente come fanno siamo in giappone sarà nel millequattro le che millequattro per me sono nel millequattro avanti cristo non preoccuparti sto bene vai perchè ho letto pensa a quello che devi fare cuscina mi serve un cuscino dammi il tuo cusino ascolta stiamo per diventare genitori se ci digitiamo per qualsiasi cosa Naruto non ci prenderà mai succede c'è loro sanno già il nome del bambino se nasce femmina cosa gli date Naruto anche lei eh si vede si ciao Naruto mamma ma se non ti può vedere deficiente ma se non possiamo farci vedere deboli da Naruto esatto 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 mi serve neanche il coso per capire c'era maschio e femmina così ma loro hanno la magia si può crocare possono vedere sotto i vestiti loro x ray mod x ray mod esatto mod mod hai hai messo il formato del video si sono tutti in HD mistero capisco ah ok ma ancora un po' e ti conosceremo non so neanche parlare cioè non so appena nasce buongiorno io mi chiamo Naruto mmm salvataggio con questo mi sa che finisce ah sei la panzone e non corre eh ma dai è incinta una che è incinta ci mette ahahah che cazzo ahahah che cazzo ahahah ma la gente che ti guarda e fa ahahah ahahah ma la mano ma il vecchio te lo ha il 90 ahahahah ahahahah ma la mano sta cagando a dolce ahahahah ahahah prossima no alla quindicesima puntata ciao Vez sono mi